ciao amici e benvenuti in una nuova ricetta per fare questo pollo dovete usare dei pecchi di pollo tagliati a tocchetti in questo modo metterli io uso questo metodo li metto in un sacchetto con della farina dentro in questo modo e poi li scrollo così vengono imparinati molto molto bene in una pentola aggiungo dell'olio e ci metto i pecchi di pollo imparinati li faccio adorare un pochino circa 5 minuti una mischiata e poi li tiro fuori dalla pentola e li adagio nel piatto di affianco nella pentola che ho cotto i pezzetti di pollo metto la cipolla cottata con un po' d'olio ci metto un rametto di rosmarino mischio un pochino e aggiungo ancora i tocchetti di pollo il sale un po' di pepe do una bella mischiata e ci metto la birra comincio a mettere la birra un pochino alla volta continuo a mischiare alla fine aggiungo l'ultima birra e copro tutti i pezzettini di pollo ecco così aggiungo un pochino di curcuma a piacere poi in forno a 200 gradi per una quindicina di minuti controllate bene il forno sempre il forno deve essere controllato grazie per aver guardato il video grazie per essere arrivati fino qua un like se vi è piaciuto iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti ciao e al prossimo video ciao